Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in questo nuovo video che non è un gameplay perché mi cercavo e anche io a fare sempre gameplay Quindi oggi siamo in questa nuova serie delle robe a caso ma nella vita reale Quindi questa è la mia stanza, questo è il mio pc che non ve lo... qua c'è un tappo Che non ve lo posso far vedere bene perché ho il telefono scarico ed è collegato al caricabatterie Comunque fa pochissimi fps perché non ha le lucine RGB Ovviamente sono ironico ma penso che si capiva sto cavo Il tappo è volato ma... quella è un'altra cosa Poi là c'è un altro computer che non c'entra assolutamente niente perché fa schifo però Ok? Stavolta sono serio però ok Quindi oggi siamo in questo video appunto per... non metta a fuoco Per non metta a fuoco... ok ha messo a fuoco Perché è così tanto per... come già vi ho detto per fare cosa a caso Allora... intanto c'è questo coso di Gars scassato Perché? Vabbè... vabbè... ciao... ciao vai spaccati fa tutto quello che vuoi Comunque... in particolare io vi farò vedere cosa c'è in questa busta Ve lo farò vedere esattamente ora Ma... 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 Come potete vedere già... già sono robe di Minecraft A parte questo che... un'altra cosa che poi vi farò vedere dopo Ora sistemo e vi spiego tutta la loro storia magica Ok ragazzi con una magia magica Questa busta vai via Busta! Ok Ho sistemato tutto con la mia magia magica E ora come già vi ho detto io vi spiegherò un poco tutti Allora... il primo è Steve Che è uno Steve armato Metti a fuoco... brutta fotocamera Cosa sta succedendo? Ok... brutta fotocamera Ok così... così posso mettere a fuoco... perfetto Allora... questo qua come potete vedere è Steve armato E con... l'armatura in... in diamante Perché è un guerriero Però... cioè... si vede che è un guerriero Perché come potete ben vedere ha perso un braccio E... poverino Però io so... io so dov'è Ma non so come mettere... come mettergli il braccio E quindi niente passiamo... Ok quindi ora passiamo al prossimo Il prossimo è Alex che... non è una guerriera Ma almeno... almeno... almeno è intera Almeno quella è intera Poi c'è... questo Enderman che non è intero Ehm... cioè perché qua ho... 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 c'è... è senza metà testa E... è senza gambe Ehm... però a differenza di... di Steve io li ho persi Però ok Poi c'è... la Mushroom che... c'è... c'è la Mushroom ma non c'è... 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 c'è la Mushroom ma non la... la... la mucca classica Comunque mi sono scordato di farvi vedere che in pratica Ehm... tutti i personaggi possono... ehm... muoversi Ehm... muoversi Ecco per esempio io posso metterlo così Ecco così Cioè ovviamente voi... voi potete metterlo in qualsiasi posizione vogliate Ovviamente questa cosa vale anche per Alex Guardate per esempio qua... però qua io... io posso farlo con due braccia perché... ne... ne ha due E per esempio posso farlo così Sì 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 lo metto a fuoco Ok quindi molto magico Poi la stessa cosa è per l'Enderman ma si poteva fare solamente con le braccia E almeno qua lui ha entrambi... entrambi le braccia Poi c'è questa mucca appunto che già ve l'ho fatta vedere prima Che ha appunto questi funghi bellissimissimi E poi anche qua può modificare... ehm... i cosi Ok Poi c'è lo squid che è davvero interessante che anche qua può cambiare queste... i cosi, i polpi Il... come si... si... si chiamano per esempio... li metto così... ecco Guardate eh... o così è... è quasi... identico a quello originale Poi c'è il coso... il... il... il gust che è la stessa cosa possiamo fare con lui Ma sti robbi sono tipo più rigidi questi qua E quindi tipo così... guardate... e... e questo qua è fatto davvero bene Ah ma comunque c'è... questi giochi sono di... anni 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 fa Poi c'è il... cassa baule o come volete chiamarlo con dentro Ah si che si può aprire comunque con dentro Una cosa magica Esatto Qui c'è il braccio di... di Steve che non riesco a mettere Però ok Quindi noi lo... 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 lo conserviamo qui dentro e lo chiudiamo Per bene Poi... Poi c'è il... il coso... lo... poi c'è l'oselot Che può... che può girare il... la... la... testa... a 360 gradi No povero povero Aspettate che lo... lo... che lo... che lo resistemo Poi può cambiare... poi può... e... camminare anche lui Guardate che si possono muovere... e... i cosi Ok C'è la coda che anche questa Si può muovere Si ok Che si può girare Come potete vedere Poi c'è il lupo Che questo può girare La testa anche Ma non al contrario Questa cosa dovrebbe essere anche Con l'Ocelot Ma l'unica cosa Che non vi piace di questo lupo Che ha la faccia Che non vi piace molto Perché lo metto a fuoco Poi anche lui può Camminare Si possono cambiare le gambe Qua c'è la coda che può andare In alto e in basso Qui ragazzi C'era l'oggetto più figo Cioè il portale Del Nether che purtroppo Ho perso Ragazzi Ora vi spiego la storia Del fidget spinner Anche questo è di parecchi anni fa E in pratica Io ne avevo due Cioè uno Questo che ancora funziona E un altro verde Che si illuminava al buio Che è quello Si è rotto E vi spiegherò il perché Perché questo In pratica Io l'ho lasciato dentro casa Quindi Cioè si è conservato E invece Quello Quello verde Io l'ho lasciato fuori E quindi poi Si è tipo Arrugginito Si è rotto E tutte queste cose qua Ora Cosa vi posso far vedere Qua c'è il Questo robot Che appunto Era il Il mio regalo Di Natale Di tipo Tre anni fa O due anni fa No Tre anni Se non mi sbaglio Tre anni fa Ehm Vabbè che E' nuttivo Cioè Perché Con calma Ora ve lo faccio Vedere meglio Ok ragazzi Che appunto Così ve lo faccio Vedere meglio Comunque È scarico E si accende da Questo pulsante Qua appunto Vabbè ma Non era molto Molto complicato Poi c'è Il 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 joystick Appunto Per Per Metti a fuoco Ah ok Appunto per fargli Dire Il comando Che deve fare Poi c'ha C'ha qua La camminata Poi la corsa Poi c'ha qua Vabbè Tutti Questi tasti Volume Poi c'ha vari suoni Poi c'è questo Per stoppare tutto Poi i balli Poi c'è per tipo Programmare Che Che vi spiego A cosa serve Serve Per tipo Io clicco Questo tre volte E poi Quattro volte Questo E poi Ripremo questo E poi Lui Senza fare niente Farà tre passi In avanti E quattro Indietro Quindi una cosa Molto interessante Poi c'è questa qua Che è la cosa Più figa Questo qua Che in pratica Io faccio Per esempio Così Così E lui va E lui va avanti Ed è una figata Assurda Poi può parlare Già come vi ho detto I balli Abbassare Vabbè Già ve li ho fatti Vedere questi Quindi è un robot Così Poi C'ha pure qua I cosi Che si possono muovere Ma questi no Questi altri Non cascare Ma questi altri no Non capisco Perché Poi Quando si accende qua Spontati Tipo Una faccina Però ok E quindi niente Questi erano tutti I miei oggetti Inutili Poi c'è questo Che si mette Al colo Molto interessante Ma Sembra una tavoletta Però ok Quindi niente Spero che Questo video Inutile Vi sia piaciuto In caso Lasciate like E fate Tutto quello Perché mi secco A ripeterlo E da minecraft Fidget Spinner E robot E computer E tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao